Buongiorno a tutti da Massimo Sarasini, titolare del Salone Effetto Max. Oggi voglio condividere con voi una tecnica, non dico nuova, ma per tanti lo è, su come fare o farvi tranquillamente a casa una piega diversa. È una tecnica che si adatta sia sul cappello corto che sul cappello lungo. E visto che noi in Salone la utilizziamo tantissimo, piace molto, vogliamo condividerla con voi. Lei è Sara e questi sono dei semplicissimi becchi d'oca. E grazie a questi realizzeremo un effetto wow. Utilizziamo un prodotto fissativo che ci permette di dare sostegno alla nostra piega su radice e lunghezze. Iniziamo il montaggio. Se lo fai da sola usa pure la punta del becco d'oca per aiutarti. Oppure se hai una buona manualità usa un pettine a coda e inizia a sollevare la base del capello fissando in questo modo il becco d'oca, così su tutta la testa. Più ne mettiamo più strong sarà l'effetto. E se il tempo lo permette li facciamo asciugare al naturale, altrimenti utilizziamo un diffusore o una fonte di calore. Ma Massimo, pensa che forza questi becchi d'oca e quanti vantaggi ci danno? Durata assicurata tutta settimana. Mai più teste piatte e il piacere del cambiamento senza cambiare. Dimenticavo, se avete difficoltà, noi siamo qui, vi aspettiamo e a presto da Effetto Maxi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.